MEZZI PUBLICI Quando non affittiamo una macchina, ma anche se c'è, non esiste niente di meglio dei trasporti pubblici per conoscere una città. Cosa sono i trasporti pubblici? Treno, autobus, tren, ônibus, tren, ônibus. Se non li troviamo, si può chiedere, per favore, dov'è la stazione del treno o dell'autobus? Onde è a estação di tren? Parada di ônibus, por favore. Come arrivo al mercato delle pulci? Come arrivo all'opera? Come arrivo a? Come arrivo a? Como chego a? Como chego a? Per lo più riceveremo una risposta tipo, devo prendere il treno, l'autobus, numero... Peghi o treno, ônibus, numero. Peghi o treno, ônibus, numero. Quando parte l'ultimo autobus? Quando parte il prossimo? Quando parte l'autobus? Quando sai o ônibus? Quando sai o ônibus? In proposito, ecco qualche parola utile. In parte le abbiamo già imparate. Il prossimo, il primo, l'ultimo. A volte le piantine sono così complesse che vorrei solo sapere dove devo scendere. E se per caso l'ho mancata, qual è la prossima fermata? Di solito sono i bambini a chiederlo se l'auto viaggia per più di dieci minuti, ma all'estero me lo concedo anch'io. Quando arriviamo a... Quando chegaremos a... Quando chegaremos a... La prossima Grazie a tutti.